Le Cicogne è un sito www.lecicogne.net che mette in contatto i genitori che hanno bisogno di aiuto per i loro figli quindi di trovare una babysitter con i ragazzi tra i 18 e i 28 anni che vogliono lavorare come babysitter. Il nostro progetto è partito proprio da un bisogno personale e sociale e cioè quello dei giovani studenti di trovare un lavoro che fosse part time e flessibile ma compatibile con i loro impegni, quindi lo studio. I giovani che si iscrivono al nostro portale possono offrire quattro servizi, oltre al classico babysitting il baby eating taxi che consiste in tutto quello che è il portare i bambini a scuola, a sport, alle feste il baby eating tutoring, quindi l'aiuto compiti fino alle ripetizioni per i più grandi e il baby party, quindi l'animazione delle feste per bambini. Le Cicogne è attiva oggi su Roma e su Milano, il nostro obiettivo è quello di espanderci a livello nazionale per far sì che tutte le mamme possano soffrire dei nostri servizi. Abbiamo anche delle partnership con delle aziende per cui offriamo gli stessi servizi a livello B2B e adesso siamo in crowdfunding su Appela perché vogliamo sviluppare la prima app in Italia che possa appunto mettere in contatto i giovani con le famiglie, quindi se volete sostenerci anche in questo progetto fatelo, siamo felicissimi. www.lecicogne.net ci trovate su Facebook e su tutti i social network.